Ciao a tutti, squali e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Pixelmon un po' particolare. Sono in compagnia di... presentatevi ragazzi, dai, su! Si è sbocciati? Emanuele, aspetta con un attimo. Emanuele, trrrrrrrr. Ragazzi, allora siamo in questo server, è un server SP. Ok, mi ha buttato fuori, perché bisogna fare come in tutti questi server. Finalmente l'abbiamo trovato e ve lo presentiamo. È un server SP un po' particolare, nel senso che... Nel senso? Sì, aspettate un attimo. Allora, si basa sulla storia, diciamo, cioè si basa più sui Pokémon, perché non potete né craftare, né rompere blocchi, né cazzare, mi sa, giusto? Esatto, però bisogna, diciamo, farmare soldi. Farmare soldi ed expare i mob, e basta. Esatto. Intanto penso che vi taglierò, o perlomeno oscurerò questa parte, perché sto inserendo i miei dati sensibili. Ed è email added, perfetto. Ma perché ti sei messo il mio nome, eh, se hai nomi? Allora, ragazzi, per noi è la prima volta sul server, ho detto proprio onestamente, quindi lo scopriremo insieme. Ecco qua, SPRIKE. Ciao, SPRIKE! Ci fai vedere che Pokémon chai, SPRIKE! Che pesi ti pigliati? Io mi sono preso il Charmanger. Ma che cosa volevo io? Charmanger. Intanto vi metteremo in descrizione il link, ovviamente, all'IP di questo server. E vediamo qui che c'è tanta gente carina. Ciao ragazzi, un Raicio livello 39, un Electrabase livello 50, un Pippolo, un Squirtolo, quasi... Oh, prima devi andarvi a casa i vostri, mi aspettate. Sì, sì, noi stiamo sulla riva. Eh, stai entra. Sulla riva. Siamo sulla riva, sì. È lì questo Charmanger, devo mettere la pasta, giusto? Devi fare slash register e poi bisogna anche aggiungere un'e-mail, ragazzi. Eh, che mail? Oh, non me la rimuovo. Eh, vogliono una mail. A cazzo pure della mail. Perché è pieno di envi ovunque? LOL. Comunque, SPRIKE, cioè le nostre arene ci sono più fighe. Oh, ma non la vogliono. Ah, sì, gli email. Perché non parli SPRIKE? Perché devo fare, aspetta molto. No, hai mid. Eh. No, no. Cioè. E' il cazzo è che non si possa rompere le mie, sennò non facevo craftare a nessuno il proprio che vuole. Eh, senti, nel frattempo... Eh, mando che azzosta. Oh, vieni, spai, vieni, insomma, vedere qualche cosa c'è. Evento. Evento. Oh, evento. Warp spawn 6, spawn 4, spawn 2, i, chacca, i, la secondaria, villado, navio, centro delle floreste, villado, chamende, ila secundaria. Che ca... però significa, ragazzi. Ma che lingua è sta roba? Ma che lingua è, scusi? Eh, giappo cinese. Giappo, giappo, tarantino. Oh, ragazzi, venite a vedere qui? Che figo gli oggetti che stanno... però non si possono rubare. Allora. Enseguo. Capiamo, capiamo. Kit NB. Fate slash kit NB. Cominciamo. Ok. Dammi un po' di roba. Tre pokeball e una pozione. Beh, cominciamo bene. Oh, aperte a teclar para giocarsi o pokemon. Avete capito, sì? Para voltar para o spawn inizial digite e spawn. Para voltar... Ma è spagnolo? Il mei pro... Sì, mi sa proprio di sì. C'è il TPA, il sito, ok. Recuperato sul nostro pokemon. Modul... Bruless. Sì, sicuro che leggo le regole in spagnolo, sicuro. Gange vedendo o drop di pokemon. Ah, praticamente... Ho fregato tutte le tre le pokeball. Se non abbo. Se fate slash money, ragazzi, vi dice ovviamente i soldi. C'è una cosa abbastanza. E io sono più povero dei poveri. Ok, lovo. Gio. Ogni ora, mamma, mi ti dà le cose. Spito. Ogni ora? Ah, ok. Ma ste cose si possono comprare? Si possono prendere? No? È solo a prendere un giro? Sì, aspetta, ma abbiamo tre intercessi, possiamo riempire tutti e tre o solo una? Secondo me, eh, lo proviamo, vediamo. Bravo, bravo, bravo. Vediamolo qua. Ma se l'è intercessi, sono tutti uguali? Madonna, no, 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 no. Minerar, addirittura. Che è un Minerar? E che caspita ne so. Andiamo a vedere. Andiamo direttamente là. Ho capito quale momento. Forse è la città dove stanno i poker di Pokémon di terra? Boh. Ah no. Che si fa qua? Che cosa c'è? Che c'è il nome? Boh. Oddio. Oh, però, quello che... Non è che è giusto per fare un po' di parkour. Oh, eh, ma qua devi vedere. Orre per mille. Per comprare una wood pickaxe costa 64. Per comprare un blocco di cobblestone... 64 costano 32. No. Ah, qua si può bene. Qui si farman i soldi, raga, avete capito? Qui, qui, quello è picconale. Qui picconi, poi prendi la roba e la vendi qui. Ma ma affanculo, va. E ti fai i soldi. Come facci i soldi, scusi, quindi i soldi iniziati. E mo capiamo. Mi sembra di aver letto che se vai a uccidere dei pokémon ti dai soldi. Andiamo. Dove? Dove? Ma sei giù? Ah, qui, qui, sopra, qui, qui, qui. Beh? Beh? Beh, che stai tu? Siamo qua. Ah, guarda. Beh? Beh? Ma è in base full. Che stai a fare? Ma è in base full, ma... E mo, che mo, tornavo. E mo devi fare slash e spawn. No. Ah, hai capito come si fai... Praticamente, se fai uno stack di terra, te lo pagano 20 di soldi. Penso che l'inizio sia questo, ragazzi. Eh, ma io non mi pari a metà quando lo partirei. Eh, sì, no, infatti, neanch'io. Ma questo è il fatto. Qua è l'unico modo per andare veloce. Cioè, se noi facciamo il primo piccone, però... Non è che ci stanno altri modi per fare, cioè, magari... Ma facciamo uno di noi un piccone. Dai, no, di certo a... Eh, cerchiamo... Ci servono, praticamente, per comprarci un piccone e tre stack qualcosa di terra. Allora, uno stack per ciascuno, dai. No, quattro stack di terra, ragazzi. Ah, fanculo. Uno stack qualcosa per ciascuno, dai. Sì. Eh, che dici, taglia? Tagliamo il video e ci rivediamo tra poco. Eccoci, ragazzi. Abbiamo scoperto una cosa che non conviene fare, dopo che l'abbiamo fatta. Cioè, praticamente, se voi farmate, ci vogliono circa quattro stack di terra per prendere un piccone. Farmando il piccone, poi... Con un piccone che avete pagato ben 64 money, riuscite a fare meno di uno stack di cobblestone, che vi genera 32 money. Quindi è letteralmente in perdita. Vieni qua, mamma. Ti faccio vedere una cosa. A meno che non troviamo un piccone di pietra. Ti faccio vedere una cosa che serve, vieni. Ok. Lanfra, stiamo salendo su. Eh, io sto... Dovando a te. Peccato, volevo rubare la terra di qua, non si può. E viene o no? Shoff. Oh, 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 oh. Qua inizia a diventare interessante. Pure sopra, pure sopra. Oh, ci sta il ferro. Quanto costa il ferro? Ma possiamo vendere le pozzoni. Un pezzo di ferro lo compri a cinque. Cioè, con quindici ti fai un pezzo di ferro, eh, ma? Eh, quello conviene. Eh, ma possiamo vendere le pozzoni. È il legno. È il legno, dobbiamo capire dove trovarlo. Indici a quanto si vendono le pozzoni. Come faccio a vedere? Indici a quanto si vendono le pozzoni. 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 Ma qua si può anche comprare? Io provo a comprare del ferro. No, non puoi comprare. Non puoi comprare. Voglio comprare. You can't buy. No, si può solo vendere, raga. Quindi, niente. Come non detto. Ho detto una strunza. E come faccio a vendere? Come faccio a sapere quando... Perché sta scritta la S o la B? La S qua non c'è, c'è solo B e X. No, c'è, c'è. Ah, che sei con lui. Dove stai? Scusa. Sopra. Sopra. Allora. B significa che puoi comprare. La S significa che puoi vendere. Quindi le G-Cocche si vendono e compri sta roba qua. Andiamo a vedere dove c'è questo poi. Andiamo a vedere qualche altra roba. Qui c'è una casa che non ha senso, l'ho già fatta vedere. Questa casa di mattoni, che figa però. Tutorial Commandos. Oh, ragazzi, sì, sì, la lista dei comandi. Messenger, risposta, TPA, accept, spawn, spawn, money, balltop, pay... Ah, vedi che si può pagare? Kit NB, kit VIP, pokestats, pokestats top. Che cos'è pokestats? Vediamo. No battle stats. Vabbè. Che capro se ne frega. Quello è quando fai sicuramente i PvP. Ci sta un faro. Oh, grazie, Spryke, 001. Sai che cosa mi è venuto scritto? 001 da Spryke. Ragazzi, penso che bisogna fare in un modo diverso per guadagnare i money, eh. ma si infatti uccideremo i mostri e c'è molti poche volcani cazzo si chiamano ah mi non si frego stai stai zitto vabbè ok proviamo ad andare nella foresta andiamo come fai ad andarci in lente allora dove no basta vini cosa sta qua vini ma che dici ma che stai dicendo c'ho pikachu si vabbè come minimo è una strada ho preso glotto ma dove mi stai portando ma vai a quel paese ho preso glotto oh eh si che cosa ti catturi pokemon allora oh lì c'è un albero gigante andiamo a vedere oh e' il grasso e' il grasso e' il grasso ma che caspita dici ma qua si può rompere no vediamo si può prendere sta roba qua ma che ti pia monica no faccio di una cosa eh si t pia lord blut un due tre quattro e cinque no già costa quanto? 50 monete senti va avanti nella foresta vedi là ci spanno i monete così fa vedere ah ma aspetta c'era un pokemon in teoria dovrei guadagnare dei money accetta ma mi da come faccio a guadagnare dei money un attimo solo ragazzi stop il video ci ripetiamo tra poco allora ragazzi ora testiamo subito e ho scoperto una cosa bruttissima per fare il tpa paghi 50 soldi ragazzi dobbiamo provare a killare i pokemon mi sa che così si mi hanno manshotato il magic up sta nell'acqua ah lo spawn oh giusto lo spawn a me mi è molto fanno pure a me ah tu Charmendarei preso ah ma io prendo sempre quello però che caspita nella foresta oh aspettate un attimo mi sono oh due gicocche due gicocche mia io c'ho un gold nugget c'ho un gold nugget e due gold nugget si ho due gicocche ragazzi fregatevi si sono ricco sono ricco soffritemi allora spawn 6 vediamo spawn 6 dove mi manda non esiste ho trovato il pochè in d'acqua pochè in d'acqua oh ragazzi sono andato allo spawn 6 non so cosa ci sta il sludge background c'è dei semini ho trovato dei semini come ne facciamo dei semini un bel sprout gigante allo spawn ci stanno le magica oddio no caspita ragazzi mi ha attaccato un mob di livello 40 ho capito mamma di come è che spari allo spawn non so quale ci stanno le magica dove l'hai letto no l'ho letto ci stanno le magica e come hai fatto allo spawn ho capito che sta allo spawn ah è spawn torniamo indietro oh come vuole 100 monete per andare allo spawn va indietro va indietro a piedi come si fa a piedi cioè a piedi mamma se voglione e dove io non lo so alla spawn nella foresta dalla foresta tu sei in foresta si ma non ci so di tornare lì a piedi aspetta 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 allora i la foresta i la neve io non voglio andare qua voglio tornare indietro voglio tornare scusate quello spawn iniziale che spawn è? fai slash spawn non lo so slash spawn normale? si ok gg grande oh raga io devo capire allora raga comunque non guadagnate i soldi quando scattate un pokemon non scattiamo un pokemon non guadagniamo i soldi maaa non voglio ucciderlo ma mi fai come ha timato com'è ma che è c'è un pokemon di livello 5 anch'io appunto vediamo vieni che pokemon è? un charmander dimmi che c'è un bulbasaur no ho un strico vabbè dove stai? curati curati tanto non girerò le mostre di fuoco dai vieni vieni qua vieni 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 hai ember coglione no non ce l'ho non ce l'ho le mostre di c'ha solo una mossa normale e basta comunque io mai non ho capito come si poi magica mammi proprio allo spawn dove ci stavano le due le arene là per combattere beh è pieno di magica eh si nel là no ci sta là qui non è pieno di magica però li trovi e me mi sta schiattando perché è livello 15 sto magica ma come si guadagnano i soldi e prendendo le cose dai modi c'è un fiero shiny guarda il giallo lol l'ho visto l'ho visto crepa guarda quel paese oh attacca l'attacca no ma non è uno shiny è uno shiny no è giallo forse l'hanno colorato che ne sai oppure è il fiero di simson comunque ragazzi probabilmente che dite stoppiamo l'episodio e lo concludiamo tra un po' cercando di capire sì sì non è popolare è brutto non piace più stoppiamo l'episodio e ci rivediamo tra poco ok ok ragazzi abbiamo girato un po' il server intanto c'è un pic zombie in effetti non ci abbiamo capito molto eh cioè per fare i soldi qua come caspita si fa vieni qua ti faccio vedere io vieni qua gira 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 vieni qua sto qua venite con me ah tu hai uccisi pokemon e ti hanno dato un mangima allora mi hanno dato 4 fish uno un golden eye e un altro due gold tu andasco allora vieni qua divendi come un buon cristiano ah o cristiano è buono eh prima ho detto fa il il mochi ti hanno dato ok è che io che non riesco a uccidere manco un pokemon non vado vabbè ragazzi insomma questo server è basato tutto sui soldi abbiamo trovato anche uno spawn dove si possono comprare le case solo che non sappiamo ancora come si fa onestamente e bisogna andare a slash no a villa docia no a villa docia centro de floresta e lì si possono comprare le case qui in teoria è proprio da perderci gli anni e le ore per capire come funziona tutta sta roba dov'è il l'enchant in table ma non lo so ragazzi per questo episodio è tutto vi abbiamo finalmente portato un server sp pixelmon e ci vediamo al prossimo episodio che con uno pig zombie che ci serve perché c'è un pig zombie oh che cazzo è sto pokemon non è un pig zombie un player ah ragazzi vi ricordo di scriverci girati vieni qua vieni qua non sembra uno su earthstone guarda una carta di earthstone ragazzi hanno trasformato una carta di earthstone in pokemon giba oddio giba che figo comunque ragazzi sto server è figo perché bisogna esplorarlo voglio dire però ci vuole tanto tanto tempo detto questo vi ricordo di scriverci che cosa fare nel prossimo episodio della pixelmon perché continueremo ovviamente sul server multiplayer che già avevamo per oggi è veramente tutto un saluto dagli tiner sharks mammi di di e e oh e trichieco trichieco e trichieco e ciao miglio ricordatevi di seguirci sui social network e se vi è piaciuto il video mettete mi piace e commentate ciao a tutti ciao a tutti ciao